il loro guarda dove ne ho portato questo meraviglioso parlo dobbiamo prendere una decisione importante dobbiamo uscire il nostro caso qui abbiamo la paratrosione ma prima di questo adesso dobbiamo fare qualcosa come dire? come dire? come dire? come dire? buonasera noi siamo qui in questo meraviglioso parlo dobbiamo prendere una decisione importante vogliamo fare qualcosa va bene, mi presenti la nicola si pare porto dello champagnino ho capito come vi dovete spostare champagno ma no, ma lo champagno lo sace le pollicite fare un digestione capire qualcosa di... così qualcosa porto dello spumante va bene, è scomantino capire, dove va? ma lo spumantino è molto simile lo champagno capire, vi dico nei quali quali di fretta per piacere allora porto, che ne so una coca cola una coca cola bisogna una coca cola ma no la coca cola quella fa male no, cameriere faccio una cosa ci porti due caffè a due caffè per brindare a un matrimonio? anzi faccio una cosa mi porto uno di caffè con due caffè va bene con due ansie signora ci ha più toccato il progetto allora amore spogliamo questa cosa un caffè un caffè un caffè ah vedi questo è il poste diare per noi charme charme e shape tu tesoro immagina noi arriviamo 40 gradi subito appena scesi da legno subito ci mettiamo in costume canotta infradito 40 gradi che bello tesoro pensaci a queste cose è troppo caldo no 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 è troppo caldo è troppo caldo calvissimo no 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 è troppo caldo è troppo caldo è troppo caldo va bene ma ce ne sono parti amore quindi basta scontrare e troviamo l'altra vedi ho trovato guarda se si è arriviamo neve sci tutta da sci appena arriviamo subito tutta da sci sempre più se ci facciamo sempre più freddo 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 fred ma di questo non lo dice allora al suo marco non lo dice noi andiamo a prendere prendiamo la E andiamo a Marietta andiamo in travolante andiamo in travolante dice il dono che si aspetta ma è lungo, lungo, lungo è troppo lungo lunghissimo è troppo lungo è lunghissimo è lunghissimo ma adesso non c'è problema ce ne sono tanti però sai arriviamo sono forti ieri ho trovato ho trovato tesori ho studi non dobbiamo prendere niente andiamo direttamente con la macchina ci arriviamo usiamo la macchina ce ne andiamo subito a fare due ore da casa mia siamo arrivati che ne pensi è corto è corto è corto è troppo corto è cortissimo è corto è corto è corto è corto è corto non ti va bene non ti va bene io non lo so cerchiamo di provare una decisione insieme e non ti va bene questo non ti va bene questo eeeh che ti ha? è un è corto 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 Grazie